Buona mi piedi porca, sta tariffa ma sta cerendo Hai voglia di parlare con tutti, ma non vuoi spendere un centesimo? Yes! Bravo! Passa a Citofon Con Citofon puoi parlare con tutti, specialmente nei weekend e di notte, basta un dito Uè, ma chi è qui sto? Ma che bobbio Quanti amici ti farai con Citofon? Si dà a chiapta la maggiore Ma chi è? Cosa aspetti? Passa a Citofon Ma passano a Citofon